Sorvegli il passaggio Passare, che cosa significa? Chi eventualmente passa di qui? E dirigendosi dove? Non già i potenti o gli eserciti? Più vaste porte li attendono, trombe d'averno, loro non qui per passare, di qua, dalla piccola porta, non si passa come di solito altrove si passa, non si attraversa la piccola porta per correre a un luogo preciso, imparata o a conquista, né assalto né fuga, non arma né scorta o progetto, segnali nell'erba, che cosa significa? Grazie a tutti.